Il neonato dormiva in una cesta accanto al letto con indosso una cuffietta bianca e una camiciola lunga. La cesta era stata appena ridipinta, decorata con nastri di raso azzurro ghiaccio e imbottita con una trapunta azzurra. Le tre sorelline, la madre che si era appena alzata dal letto e non era ancora tornata del tutto in forma e la nonna, stavano tutte attorno al bambino e lo osservavano fissare il soffitto e di tanto in tanto portarsi la manina alla bocca. Non rideva e neanche sorrideva il piccolo, però a volte batteva le palpebre o si passava rapidamente la lingua sulle labbra quando una delle bambine gli stuzzicava il mento. Il padre era in cucina, ma le sentiva giocare di là con il bambino. «A chi è che vuoi bene, piccolo?» disse Phyllis, facendogli il solletico sotto il mento. «Ci vuole bene a tutti», disse Phyllis, «ma a papà vuole ancora più bene perché è un maschietto come lui». La nonna si sedette sul bordo del letto e disse «Guardate che bel bracciotto, così paffutello! E i ditini?» «Tutto sua madre». «Non è dolcissimo», disse la madre. «Sta benissimo il mio bambino». Si chinò su di lui e lo baciò in fronte, aggiustandogli la copertina attorno al braccio. «Anche noi gli vogliamo tanto bene». «Ma a chi somiglia, a chi somiglia?» esclamò Alice e tutte si avvicinarono ancora di più alla cesta per vedere a chi somigliava il bambino. «Han gli occhi bellissimi», disse Carol. «Tutti i bambini hanno gli occhi belli», disse Phyllis. «Le labbra sono tutte quelle del nonno», disse la nonna. «Guardate che labbra!» «Non lo so», disse la madre. «Non direi». «Il naso, il naso!» esclamò Alice. «Che cos'ha il naso?» chiese la madre. «Mi ricorda il naso di qualcuno», rispose la bambina. «Ma, non so», osservò la madre. «Non mi pare». «Quelle labbra», bormorò la nonna. «I dittini», disse, scoprendogli la manina e allargandogli le dita. «A chi somiglia il pupo?» «Non somiglia proprio a nessuno», disse Phyllis, e tutte si strinsero ancora di più attorno alla cesta. «Lo so io, lo so io», esclamò Carol. «Somiglia a papà». Tutte guardarono il neonato con maggiore attenzione. «Ma papà a chi somiglia?» chiese Phyllis. «Papà a chi somiglia?» ripete Alice. E tutte insieme si voltarono per guardare verso la cucina dove il padre era seduto al tavolo, dando loro la schiena. «Beh, a nessuno», disse Phyllis e cominciò a piagnucolare. «Shh», fece la nonna, distogliendo lo sguardo dalla cucina e rivolgendolo di nuovo al bambino. «Papà non somiglia proprio a nessuno», esclamò Alice. «Ma deve per forza somigliare a qualcuno», disse Phyllis, asciugandosi gli occhi con uno dei nastri. A parte la nonna, guardavano tutto il padre, ancora seduto al tavolo. Si era girato sulla sedia e aveva il viso bianco e senza espressione.